Bentornati nel canale, allora una cosa veloce, vi saluto, bentornati, scusate sapete che non so fare, non sono youtuber e quindi faccio fatica ogni tanto. Lunedì, domani sera escono i pronostici e quindi andate a vederli perché così avremo tempo tutta la settimana, perché guardo la partita con l'Equador e la commenterò. Stasera devo andare a vedere l'Inghilterra contro il Brasile e quindi mi godo una bellissima partita, però ininfluente per me perché non tifono chiaramente queste nazioni, però è bello, ho il biglietto gratis quindi ve la vado a vedere. Però, come ho scritto nel commento, Retegui e Inter, voglio parlare di questi due commenti qua importanti. Allora, facciamo un secondo, l'Inter la mettiamo un attimo da parte, ok? Retegui, io ho sentito dei commenti, allora io di Retegui avevo un canale precedente, avevo fatto video caratteristiche quando nessuno lo conosceva, quando Totti l'aveva proposto, vi ricordate, e sono andato a informarmi, neanch'io non lo conoscevo. Pensate che quando Retegui, ormai sapete la storia, che il papà allena la nazionale di hockey femminile di Prato, su Prato, che è uno sport molto più indiano, anche gli inglesi comunque lo utilizzano e partecipa alle Olimpiadi come sport, quindi è, insomma, è uno sport, ok? E lui è molto bravo su questo, e tutta la sua famiglia, il padre era nazionale. Poi è stato visionato da uno dei giovanili che lo vedeva giocare e l'ha proposto di mettere, giocare, lui nasce come esterno alto, come Martinez. Martinez nasce come esterno di punta, come lui. Infatti, ma dopo pian pianino Retegui è diventato centrale, e con il Tigre, sia nel campionato di apertura che clausura, ha trovato una squadra tipo Genova, doveva fare tante spallate prima di... Poi sapete che nel campionato argentino è difficile fare gol, perché tante partite finiscono 1-0, 2-1, ci sono ancora diversi 0-0, è molto italiano agli 80, no? Come stile di gioco. E quando è venuto in Italia, per la prima volta, io ero contento, perché avevo la possibilità di vederlo in azione. E io mi ricordo, e io qua apro una... ma veramente, ascoltatemi bene, andatevi a vedere il gol che ha fatto. Arriva qua, non parla una parola di italiano, nel senso che lo capisce, perché comunque da qua... Allora, abbiamo messo dentro Camoranesi, tutta sta gente qua, qualcuno non aveva neanche un parente, lui ha bisnonni italiani, infatti si chiama Matteo Retegui, ok? Quindi, quando tu decidi... e questa cosa c'era Schifo, non so se lo ricordate, che giocava completamente italiano e giocava con la nazionale belga, ok? Nella Svizzera gioca Turchi, ma si ha giocato, perché sono tutti turchi, lo dice la stessa parola. Yakin, ve lo ricordate? E' anche natore della Svizzera poi, no? Turco. Ok, allora gioca, ok. Un po' la storia di Bairro Balotelli, ma Balotelli è diverso, perché è nato e cresciuto in Italia, da famiglia adottiva italiana, quindi... cioè, non c'è storia, cioè, è italiano 100%, 1% per mille, mille... l'ho sempre tifato e mi è sempre piaciuto come giocatore. Poi, quando ho iniziato a fare le gaffe e perdersi... però, insomma, si è creato la sua immagine ed è giusto che venga rispettato per quello che ha fatto, perché il nazionale comunque i gol li ha fatti quando doveva farli. Diciamo che era più regolare il nazionale che nei club. Detto questo, Rettegui arriva, non parla una parola di italiano, viene convocato da Mancini e fa quel bellissimo gol con l'Inghilterra. Io vi domando una cosa. Lui ha toccato, poi con la partita ha giocato, ha fatto un colpo di testa con Malta, guardate l'elevazione, una partita che non si sbloccava, se non c'era lui, forse non aveva neanche vinto quella partita là. E ieri ha fatto due gol. Ha fatto un primo tempo nella finale di National League del terzo o quarto posto e un'apparizione di dieci minuti, basta. Lui non ha fatto neanche quattro partite. Tre partite, quindi il minutaggio è 9, 18, 27, 300 e qualcosa. E ha fatto quattro gol. Ripeto, quattro gol. Il Venezuela, l'ha battuto il Brasile. È inutile andare a vedere a Renchi che non si è mai qualificata. Noi abbiamo perso quel Montenegro che non ha mai andato a fare neanche un europeo. Vogliamo paragonare il Montenegro col Venezuela? Cioè, ragazzi, io veramente a volte non riesco a capire. Ha fatto due gol. Questo ha il fiuto del gol. È fortissimo sotto area. Non piacerà perché non piacerà. Ma questo è perfetto, attaccante per la Juventus. La metti lì. Sapete quanti gol fa più di Vlaovic questo? Magari non ha la tecnica di Vlaovic. Su questo, fino a un certo punto. Perché andate a vedere i gol che fa in rovesciata. O qua, guardate i gol di Matteo. Sono molto simili su certi aspetti. Molto simili. Vlaovic e Retteghi sono molto simili. Con la differenza che a Vlaovic gli piace andare sugli spazi potrebbero giocare insieme. Avrebbe fuori una bella copia. Perché Retteghi sa lottare e stare dentro l'aria. Sa far Spallati in una maniera pazzesca. E io devo solo dire un grazie. A mister Spalletti che non lo ha considerato. E ignoto che tutti l'hanno sottovalutato. Il più giovane di tutti. Ieri era capitano dell'Under 21. Fargli la strada per crescere. Non buttarlo subito in prima squadra e viene ucciso. Bravo Spalletti. Molto bravo. Devo fare i complimenti. Scamacca ha avuto le sue opportunità. Le sta perdendo una dietro l'altra. Perché le operazioni che sta facendo con l'Atalanta. Che è una squadra molto più elevata del Genova. Molto più elevata. Fa le coppe europee e tutto. Gioca proprio un calcio prospettivo. Non può avere meno i stessi gol di Retteghi. Che è stato fermo quattro mesi per un doppio fortunio. Perché è tornato. Ve lo ricordate? A partire con il Monza che ha sbagliato. E si è praticamente avuto un doppio stiramento. E ti credo. Adesso sta in forma. Signalà tutte le partite. Signalà tutte le partite. È un giocatore molto molto forte. E le critiche che sento dire. Che ha segnato col Venezuela. Che è un giocatore. Sì così. Ma andate a cercare le partite che ha fatto la Nazionale Italiana negli ultimi sei anni. E prendetemi anche le squadre più basse. E ditemi tra gli attaccanti che ci sono stati. Quindi non sto commentando loro. Sto facendo solo la somma. Belotti. Chi era l'altro? Immobile. E poi non so. Mi pare che sono sempre questi due. Che ci sono alternati. Quanti gol hanno fatto negli ultimi sei anni? Anche le amichevoli. Anche quella tra di loro. Non arrivano in due a fare cinque o sei gol. Chiaro? Questo non vuol dire che Immobile è scarso. Immobile è campione d'Europa. Ha contribuito a vincere con due gol. Nessuno dei due importantissimo. Nel senso che era il 3-0 con la Turchia. E un altro non mi ricordo contro chi era. Però comunque c'era. Ha giocato. Non importa se dopo segni uno o due gol. È campione d'Europa. Quindi il suo l'ha fatto. C'ha nelle spalle. Lui e Belotti. Le due non qualificazioni mondiali. C'era nelle spalle. C'è poco da fare. Perché dopo noi possiamo incazzarci con i gol sbagliati da non mi ricordo chi davanti la porta. Però alla fine io c'ho sempre quella con la Svezia. C'è veramente 80% di possesso palla. Cross di continuo che arrivavano e non c'era una punta che fa gol. Adesso ce l'abbiamo. Dobbiamo criticarle. Per piacere. Bravo Reteghi. Punto e basta. E grande Genova ve l'ho preso. Grandissimo Genova ve l'ho preso. Un fiuto incredibile. E se fa un bel europeo. Boom. Vedete. Ed è attaccato alla nazionale. Perché io mi ricordo la prima intervista che è venuta fa. Io ho deciso di diventare italiano perché voglio giocare con la nazionale italiana. Perché io voglio rappresentare la nazione. L'Argentina non mi ha voluto. Mi ha voluto l'Italia. La voglio rappresentare. E questo a me mi fa sentire italiano più di tante altre cose. Complimenti a Reteghi. L'Inter è un grosso problema. È inutile girarci intorno. È un grosso problema a livello finanziario. Allora. Zang è una cosa. L'Inter è un'altra. Parliamoci chiaro. Zang deve restituire questo debito qua. Però non è che se non glielo restituiscono Zang va all'astrico. Verrà nominato un perito che valuterà il patrimonio dell'Inter. E verrà dato non so tipo 700-800 milioni. Che comunque è una piccola perdita rispetto al debito che ha. Però se calcolate tutti i soldi che ha messo prima. Perché ha speso tanti soldi per fare bene con l'Inter. E questo va detto. Quindi per il futuro dell'Inter è meglio che resti Zang che entri Oktri. Il problema è che, ne hanno parlato qua in Inghilterra, c'è una corte Cassazione in Italia che ha deciso che Zang deve dare dei debiti al governo. Adesso non so di che entità. Devo dire la verità. Però questo va a gravarsi nel momento in cui c'è il problema dell'allungamento del debito con Oktri. Quindi Oktri se era già indeciso di ripianare, allungare il debito con un tasso molto più alto, dopo questa sentenza qua, non so se vale la pena. Perché comunque dopo chi è che va a comprare l'Inter? Se lo prendi adesso, Oktri ti lascia l'Inter in una situazione che può partecipare al campionato, perché subentra, però non può fare acquisti. Zero. Deve solo vendere i giocatori. E quindi piano piano ci può essere un... come dire, diventa un po' difficile anche per un staff come Marotta e Ausilio fare acquisti, perché con che prospettiva lo fai. Se però nel breve Oktri, è cosa che farà sicuramente, trova un altro acquirente, bisogna capire chi entra, se lo prende per il bene dell'Inter e per il bene di se stesso, o giusto per comprare, per fare affari a Milano, perché ci potrebbe essere anche questo. È una situazione molto delicata, dovremmo analizzare... Perché dico questo? Perché tutti hanno parlato che l'Inter non interessava, ma l'Inter vincere lo scudetto è un discorso importante per i tifosi, però l'Inter se passava il turno, altri due turni, avrebbe guadagnato molti più soldi. Avendo perso gli ottavi, rispetto nel bilancio hanno messo almeno di arrivare in semifinale, cioè non riescono a stare in linea con il bilancio. Il fatto di vincere il campionato non ti dà i soldi che ti prospetta a essere andato avanti in Champions League. Quindi capite che per l'Inter è stato un grosso problema questa uscita qua. I giocatori questa cosa lo sanno benissimo, i dirigenti lo sanno bene e anche i tifosi lo sanno. Oltre a esserci rimasti male, perché comunque fai una finale e poi esci così, hai fatto una Champions League abbastanza anonima, perché l'unica partita che mi ha esaltato è stata le due partite di andata giocate con il Benfica e questa. Le altre sono state in partite un po' così, più sulla difesa, più tenere il risultato. Però la vera Inter l'abbiamo vista in queste due partite qua. La partita di ritorno è stata una gran sofferenza che si è procata poi anche con il pareggio con il Napoli, perché c'è un discorso fisico che ne abbiamo già parlato. Chiudendo un po' tutta questa faccenda, spalando sempre con l'Inter, di Acerbi non voglio dire niente perché ho già parlato, dico solo che l'Inter ha la fortuna che comunque vada la sua vicenda personale a livello di Zang, è una ditta che non fa parte del gruppo Zang, o meglio, fa parte del gruppo Zang ma non con i beni del gruppo Zang. Quindi nel caso in cui ci dovesse essere un passaggio o una richiesta di fallimento di Zang, l'Inter non fallisce, non fallisce, rimane in attesa di una sistemazione debitoria che è molto alta e l'unica soluzione che c'è, è inutile girarci intorno o trovare 3-4 soci che entrano e spiarano il debito oppure ripartire da una serie D e fare il crack, come è successo con i Rangers, Glasgow Rangers, come è successo con il Palermo, come è successo con squadre che hanno a un certo punto... Ecco. Quindi, cioè il discorso dell'Inter è abbastanza complicato, ma non è così serio allo stesso momento, è serio a livello finanziario, a livello societario, sportivo, sanno come fare, cioè non è che i contratti spariscono, non è che le cose spariscono, quindi la squadra c'è quest'anno e c'è anche il prossimo anno. L'unica cosa che magari potrebbe essere bene per l'Inter che non ci fosse Zang, è che se rimane Oktri nel frattempo che trova un nuovo acquirente, non vende nessun giocatore, perché comunque il debito ce l'ha con se stesso Oktri, perché è Oktri che ha dato i soldi, quindi il compito di Oktri è di trovare un nuovo acquirente che entri e paghi la quota per acquisire l'Inter, che è comprensivo appunto dei debiti. Quindi, tutto sommato, anche se Zango va via, non è un grosso problema per l'Inter, perché comunque l'Inter verrebbe presa da questa società Oktri, che per assurdo, se andate e mi sono andato a informare, sapete Oktri da chi è formata? Sono queste società, c'è dentro anche Zang nel gruppo Oktri. Io questa cosa non lo sapevo, quando l'ho saputo sono rimasto Zang, tra le sue tante multinazionali e quant'altro, Oktri è formata dal gruppo Zang anche in percentuale. Pazzesco, veramente pazzesco. Ragazzi, noi, questo era giusto per sapere a titolo informativo, poi bisogna entrare sempre in un argomento molto delicato. Io ricordo ancora, e questo voglio concluderlo, e io credo che questa cosa arriverà, che il Fondo Pifo era molto interessante all'Inter, molto, molto. E era venuto fuori un bel articolo di un news che fa marketing, io seguo loro, in particolare, è il Natural Gas, e anche le tech, le seguo, ho dei fondi di investimento miei personali, e mi ricordo che un anno e mezzo fa era uscito, non so se era Bloomberg, non mi ricordo qual era, un notiziario economico molto importante, che avrebbe parlato che il Fondo Pifo, nel giro di due anni, avrebbe preso l'Inter, ed era, c'era questa, c'era questa prospettiva, che poi è stata presa male da alcuni youtuber, da alcuni giornalisti, dicendo che l'Inter veniva preso da, sì, però era un discorso da qua a due, tre anni, quindi, io non escluderei che il Fondo Pifo potrebbe entrare a prendere, anche se in Italia il Fondo Pifo è già presente, perché ha comprato il Palermo, quindi non so se potrebbe prenderlo in forma diretta, potrebbe, perché comunque una partece in serie B, e una in serie A, però non lo so, bisognerebbe veramente entrare a fondo, però l'unica cosa, certezza che so, è che queste cose sono già state programmate, e quando sono venuto a sapere che il Fondo Octree è formato per una piccola quota, anche dal gruppo Zang, sono venuto veramente sorriso, quindi noi stiamo qui a parlare, ascoltare i commenti tecnici, anche di persone molto informate sul pezzo, però non sappiamo esattamente cosa c'è, e io sono convinto che queste cose sono già state decise a priore, e la società, e compreso il gruppo Zang, sanno già come muovere. La cosa che loro non avevano programmato forse era questa situazione del governo italiano che ha chiesto di ripienare il debito, una situazione debitoria che aveva Zang nei confronti dello Stato, e questa è arrivata a una sentenza in questo momento che è abbastanza delicato sulle scelte dell'Inter a livello gestionale, ecco, questa non era stata presa in considerazione. Se ho detto delle scemenze, scrivetelo qua nei commenti, e mi farebbe piacere, perché a livello natore so cosa devo fare, so le mie cose, a livello di attaccanti, i fiuti lo so alla stessa maniera, a livello di fondi economici, me ne intendo, perché comunque faccio, però a livello di gestione di un fondi, un club, dei fondi e quant'altro, sono abbastanza ignorante, perché non è la mia materia, e quindi potrei aver detto delle sciocchezze, ho cercato di informarmi prima di fare questo video, però se ho detto le sciocchezze, dite pure, mister, lei ha bevuto dieci birre prima di fare questo video, perché questo, questo, quell'altro, e la metto sul sorridere, perché è giusto che mi correggiate se ho detto qualche cavolata, noi ci vediamo, Forza Italia, e riprende il campionato ragazzi, riprende il campionato,